Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere alcuni problemi riguardo alla connessione rete wifi sia per la rete wifi che il cavo LAN quindi in questo caso se dovete collegare un cavo LAN alla scheda madre e al vostro modem per il wifi in questo caso vanno scaricati alcuni driver per la scheda madre invece per la wifi vanno scaricate altre cose quindi in questo caso io ho una scheda di rete quindi vanno scaricati alcuni driver per la scheda di rete per esempio il mio Avast Driver Updater mi dice che devo aggiornare il Tipling Wireless and PCI Express l'adattatore che sarebbe una di queste schede di rete quindi in questo caso se avete una scheda di rete andate direttamente a cercare quindi io attraverso il sito Tipling posso scaricare questi driver per la mia scheda di rete poi in questo caso per la scheda madre per esempio il cavo LAN perché io ho collegato il cavo LAN al modem e l'ho collegato alla scheda madre dietro c'è proprio la porta Ethernet per collegare il cavo quindi in questo caso se non sapete che tipo di scheda madre avete nel vostro PC basta che scrivete direttamente System Information e troverete così la vostra scheda madre quindi la mia scheda madre è la B450 Gaming Plus Max e vado a cercare la mia scheda madre quindi B450 Gaming Plus Max vado su Supporto vado direttamente su Driver e Download e faccio direttamente Driver l'ultima versione che hanno rilasciato è una versione del 2022 e faccio scarica apro così il pacchetto RAR entro nella cartella e installo così il driver modifica facciamo riprise quindi reinstalla tutte le funzioni del programma ha fatto così la manutenzione facciamo fine abbiamo installato così i driver per il cavo LAN la nostra scheda madre per la scheda di rete come ho detto va cercata la tua scheda di rete quindi se non sai che tipo di scheda di rete hai nel tuo PC vai direttamente tasto destro su Windows gestione dispositivi tip link wireless MCI Express adattature questo qua questa qua è la mia scheda di rete da qui posso anche aggiornare i driver direttamente su gestione dispositivi cerca automaticamente i driver il computer sono già installati quindi c'è tutto installato oppure cerca il driver del tuo computer faccio avanti i driver migliori per il tuo dispositivo sono già installati quindi abbiamo installato il driver per la scheda di rete il cavo LAN la porta Ethernet per la scheda madre perché io avevo problemi a connettermi attraverso il cavo LAN perché non avevo installato un driver per la mia scheda madre se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere questi problemi che tu hai una connessione che fai in casa e non riesci a connetterti a internet per mancanza di driver oppure driver obsoleti lascia like riguarda la guida se non hai capito come funziona il tutto quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao